come promesso come promesso siamo qua ciao a tutti ciao la live della buonanotte oramai tipo tutte le sere facciamo la live ciao buonanotte per dire giustamente ciao 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 ragazzi sono stanca morta tipo devo andare a fare la doccia devo andare a dormire perché ho veramente bisogno di dormire ciao 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 no non vengo a Latina momentaneamente no ciao Manuela vieni a Latina ma siete tutti in Latina ragazzi scusa tre vengo a Latina ciao Fede ciao Eleonora sei felice? sì potta potta qui c'è potta che mi sta guardando malissimo ecco vieni a Games Week no ciao aiuto non riesco a leggere ragazzi aiuto verrei a Bergamo però adesso non vado a nessuna parte ragazzi ciao ragazzi non riesco a leggere i commenti in Sicilia è in Sicilia mi piacerebbe anche a me venire in Sicilia ciao Beatrice viene Luca Comics non penso proprio perché in quei giorni sono qua vero sono a Milano no fine ottobre inizio novembre quindi sono qua niente no niente Luca Comics di nuovo viene Latina va bene andiamo a Latina vediamo di organizzare qualcosa madonna Latina cioè quanti siete di Latina? ditemi in quanti siete cioè ciao ragazzi Puglia ciao Gaia ciao a tutti aiuto Rimini Rimini tutti di Rimini e vabbè ci saremo visti alla festa della rete spero dai Reggio Emilia Svizzera Bologna è possibile che quando scrivo io ti giri che cosa cosa mi avevi scritto? Toscana ciao 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 Lorenzo ciao a tutti comunque ragazzi guardate vabbè ma siete sparsi per tutta Italia bisogna fare un tour via Torino vieni Svizzera per favore eh magari magari ragazzi comunque io mi sono anche dislocato una caviglia oggi lo sapete cioè sono veramente un un trebesto come si dice veramente cioè oggi vi ho caricato le figure di Bip ecco mi sono proprio cioè guardate c'ho il piede sembrano già un po' ignoto sapete che bello vabbè comunque non funziona non ce la posso fare mi fa anche male veramente ragazzi sono stupide sono stupide sono stupide io sono stupida evidentemente vabbè comunque lasciamo stare e comunque ragazzi niente sì grazie che ti è piaciuto il video grazie mille grazie mille l'ho caricato oggi apposta sono contenta che le avete visto avete postato una foto dell'alcatraz su twitter eh non ti ho messo i likes scusami li vado a ricontrollare aiuto vicenza sì ok salut ragazzi non riesco a leggere stasera scrivete in troppi ali mi trucchi eh ho capito ti trucco come faccio ti piace il tuo nome sì dai abbastanza il video è stupendo grazie grazie mille e il video era tipo mai una gioia davvero guarda ma poi oh l'ho girato diverso tempo fa è capitato proprio in un periodo che è veramente mai una gioia ciao Giovanna ci sarà editatube boh quando è editatube a maggio a maggio di qui a maggio io non so manco se sono più su questa terra guarda ciao Ilaria mai una gioia mai ciao Gloria viene Sassari ci sono venuta la scorsa estate vabbè comunque ragazzi io vi volevo lo santo dire buonanotte ti sposo sì guarda ti sposo volentieri tesoro comunque Ali torna Rimini tu ho letto Vicky però non ho letto abbastanza scusatemi Aurora ciao allora ragazzi io semplicemente vado a fare la doccia perché poi devo andare a letto e io e Potta siamo molto stanche quindi andiamo a nanna anzi vado a fare la doccia poi mi strucco tu Potta e Michele avevo scritto potta vogliono vogliono che io e te e Michele andiamo a Rimini io e te e Michele viva la Romagna viva la Romagna Potta è molto contenta di questa cosa va bene verremo a Rimini prima o poi ma ci siamo stati a Rimini eh lo so che ci siamo stati ci siamo stati ci sei venuta a salutare alla festa della rete ma sei insieme a Michele ma che è insieme a Michele che sei in Sicilia no io sono a Milano sono Michele Bravi ecco Michele Bravi ciao dai canta un po' The Days o Sweet Suicide aspetta che vengo a preparare vai no 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 vai vai ora arriva ragazzi adesso arriva il momento trash il momento trash mio e di Potta no facciamo tipo sì sì Sweet Suicide vai sono stanchissime Basta vede ora faccio un supercoso beh tira qui se non ci sentono ricorda il momento fun girl finisce qua posso sposare Michele? si bene pota dato la mano di Michele a non si sa chi posso sposare Michele? sposa però chi sei? mollicola Sara rispondi alle domande in diretta e dimmi che domande hai invece da farmi a parte questo momento tipo ti ricordi di me? non lo so Svizzera ho una verifica e due interrogazioni domani auguratemi buona fortuna alla tuttora domani squadra bocca al lupo dai parla inglese oh mamma mia ho fatto una foto ma io ho una foto lì di me, Guglielmo e la Leone non ci sei no non ci sono a quel tempo lì volete vedere la foto? la Madonna la Madonna sembrano veramente il presepe tipo guardate aspetta non si vede una fava perché c'è il riflesso ecco vabbè la Madonna pota è proprio la Madonna va detto dicevo si sono proprio fidanzata con Michele io si siamo proprio stiamo assieme da tanto e non ve l'abbiamo mai detto effettivamente però è capitato sai come capitano certe cose magari a Roma o a Rimini e non si dicono capito queste cose che capitano quanto sei la meglio quanto sei la meglio quanto sei la meglio dicono anch'io lo dico ogni riferimento a cose e persone è puramente casuale allora fantattiche vai viva allora mi suggerirai la come ti faccio a suggerire la verifica di domani allora si vai poi che materia è per sapere se sono forte o meno magari ti posso aiutare non lo so certo che vi amo vi amo tantissimo tipo guardate una ragazza mi ha portato tipo queste cose carinissime questa un'altra guarda un'altra ha disegnato le mie cover che carina guarda me le sto tenendo tipo troppo strette queste cosine c'è un sacchetto con tutta la roba che mi avete portato chi è che ah hanno detto ha detto quindi visto che gli ha dato a te la mano di Michele a lei ha detto che si sposano il 14 di farglielo sapere ah ma forse perché lo vai a incontrare all'in store che c'ha il 14 no non so quando si è detto fatto eh c'ero ieri ma sono stupida mi sono dimenticata di dirvelo va bene così tu Michele e Sofia latina questa latina ricorre proprio via ci faccio qualcosa via latina se devo scegliere vengo a latina mi fate morire eh ce sta vabbè io volevo andare a fare doccia 12 minuti fa prima di switch to side quindi vabbè ma Sofia e Jared chi è Jared ah Jared scusami io l'ome completo di Lorenzo non me lo ricordo cosa c'entro io con loro scusatemi spiegatemi come mai mi avete infilato in questo discorso ah vedi io sposo Michele il 14 ha la Feltrinelli quindi mi sa che il 14 Michele avrà un sacco di matrimoni si vai da Michele gli dice che potta te la fa benedizione esatto vai da Michele gli dice guarda potta te la fa benedizione no problem proprio easy vabbè hashtag Alice la doccia infatti con questo ti saluto Matt si te lo saluto proprio tanto guarda si ti amo tantissimo ok a Siracusa ok andiamo a Siracusa allora fai da testimone si a tutti faccio io da testimone va bene ragazzi vado a fare la Alice mi sposa hashtag Alice mi sposa via vado a fare vado a fare la doccia basta ragazzi ci sentiamo domani va bene ci sentiamo domani domani facciamo una periscopo non so quando e va bene vi mando un bacione vi mandiamo un bacione enorme vai potta ecco potta che dà le mani di Michele e basta Michele ha appena pubblicato una foto grazie che foto ha pubblicato potta controlliamo che foto ha pubblicato dove l'ha messa instagram twitter vediamo aspetta aspetta perché qua bisogna commentare assieme la foto di Michele vado a mettere il like ok vai a mettere il like io vado a cercare non mi ha la carica instagram l'ha messa come sono bravi vedi che rispondono anche alle domande grazie 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 gioia è quella di Catania anche io voglio vedere allora se con le Catania ma questa ha messo scusate cioè scusatemi questa cosa ma chi è è questa che cosa che ha messo Michele bravi come forse chi forse cioè scusatemi per questa cosa qui mi avete interrotto merita merita l'interruzione questa cosa vabbè ragazzi niente oddio stavo per far cadere l'iphone vabbè a parte questo ragazzi niente vado a fare la doccia davvero veramente ci si sente domani ok no che tra parentesi su snap quella lì è fatta su snapchat perché quello lì è l'evoluzione della mia cosa preferita del mio video preferito che quando aprivi la bocca ti uscivano fuori tipo i pezzettini di noci e adesso ci hanno messo tipo il criceto quindi quella è proprio l'evoluzione mi piace tantissimo basta vado a fare la doccia vi mando un bacione ve la mando anche potta e ci sentiamo domani buona